Il buongiorno si vede dal caffè. Non c'è napoletano che ogni giorno non inizi la sua giornata sorseggiando una tazzina di espresso, schiumato, freddo, brasiliano, alla nocciola. E per celebrare questo legame imprescindibile tra la città e la sua bevanda più famosa, il comune di Napoli propone una due giorni, il 7 e l'8 maggio, dedicati interamente al l'oro nero. La Kermesse si chiamerà Nubello Caffè e sarà in programma al maschio angioino. A volerla fortemente la vicepresidente del Consiglio Comunale Flavia Sorrentino. Una manifestazione che vuole omaggiare, esaltare, impreziosire un elemento di straordinaria cultura e appartenenza della nostra terra che è il caffè napoletano. Nel castello partenopeo napoletani e turisti potranno partecipare ai incontri che spiegheranno il caffè, le sue varianti. Come si è arrivati al rito del caffè napoletano, potranno partecipare a workshop a cui si affiancheranno momenti di assaggio, competizioni e contest. Ai nostri microfoni Mauro Illiano e Francesco Costanzo, rispettivamente esperto e assaggiatore di caffè. Ci saranno tanti esperti che ci spiegheranno effettivamente cosa sia il caffè, come otteniamo il nostro caffè per arrivare a dei momenti di incontro, dei momenti un po' più leggeri se così vogliamo, fatti però tanto anche questi di assaggi, anche questi chiaramente di squisizioni su ciò che poi amiamo tanto, ovvero il nostro caffè. Per questo evento abbiamo ideato tantissime gare all'interno della Due Giorni perché abbiamo visto con il tempo che attraverso le gare i baristi si mettono in mostra e imparano sempre di più, quindi ci saranno tantissime attività. Uomo simbolo della cultura napoletana, legata proprio al rito del caffè, lo scrittore Maurizio De Giovanni, che sulla Kermesse si è così espresso. Il caffè è indiscutibilmente un elemento identitario della nostra città. Come diceva bene il sindaco, il caffè è un patrimonio mondiale di socialità e di piacere, però il nostro è particolare, il nostro è speciale e come tutte le cose speciali della la nostra città va adeguatamente promosso e va adeguatamente sostenuto.